Ciao ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. Oggi vi voglio parlare di quello che è uno dei test più utili per andare a verificare se ci sono tensioni a livello della muscolatura che permette di flettare l'anca e di estendere il ginocchio. In particolare parliamo del retto del femore. Perché è utile andare a verificare se ci sono tensioni in questa muscolatura? Perché ci sono alcuni movimenti didattici che permettono di andare a sviluppare alcuni movimenti come la bandiera, oppure per esempio la planche, oppure per esempio il front lever, ma anche per esempio la verticale che possono soffrire di difficoltà di esecuzione nel momento in cui ci sia troppa rigidità in questi muscoli. Quindi se anche tu stai sviluppando il front lever, la planche, se per esempio sei incappato in varianti come la mezza completa e vedi che i tuoi fianchi tendono a chiudersi, magari pur avendo la forza nelle spalle o nei dorsali per tenere la posizione, vai avanti a vedere questo video. Vi parlavo quindi di quanto sia importante avere una buona scioltezza a livello di alcuni muscoli. Il test che vi voglio proporre per la lunghezza del retto del femore, che è considerato un muscolo biarticolare perché permette di flettare l'anca e di estendere il ginocchio, è quello di andare a mettervi in ginocchio, andare a mantenere una posizione retta, quindi con i fianchi completamente aperti, con le gambe unite e ovviamente essendo il ginocchio avremo il ginocchio che è flesso a 90 gradi. In questa posizione dovete cercare di rimanere il più naturale possibile e fatevi una foto di lato. Da questa foto di lato io vi chiedo di guardare se per caso avete un aumento della lordosi lombare. Se avete un aumento della lordosi lombare, provate a portare il bacino in retroversione e provate a vedere se percepite tensione a livello del quadricipite. Se andate a percepire tensione a livello del quadricipite, è molto probabile che abbiate delle restrizioni a livello del retto del femore e di conseguenza avete capito perché eseguire la posizione mezza completa sia così dannatamente difficile soprattutto nella contrazione dei glutei e nella retroversione. Per tanti altri video che riguardano mobilità articolare, esercizi per il retto del femore vi consiglio di andare a cercare sul mio canale YouTube, iscrivetevi sul mio gruppo chiuso di Facebook dove potete condividere esercizi, video e chiedere consigli e ci vediamo al prossimo video.